Il progetto esecutivo dei sottoservizi prevedeva che i lavori fossero svolti osservando delle norme di sicurezza, ma il posizionamento di paratie laterali a protezione dello scavo e nei casi più critici la realizzazione di strutture blindate per proteggere le fondazioni è stato effettuato solamente in alcuni casi, a lanciare l'allarme e il Movimento 5 Stelle dell'Aquila. Noi però poniamo la questione del se questa modalità di esecuzione dei lavori sia o meno compatibile con l'obiettivo di realizzare un centro storico sicuro per la vita civile, per i negozi, per le case, un centro storico che sia attrattivo per la gente. Che cosa farete ora? Noi intanto denunciamo questa situazione e poniamo delle domande alle pubbliche autorità perché l'altra cosa che lascia oggettivamente perplessi è che di questa vicenda lo sanno tutti, lo sanno tutti in città in generale, lo sanno tutti i progettisti, ma lo sanno soprattutto i vertici della nostra, diciamo, la classe dirigente della nostra città, lo sa il sindaco, lo sa il vicepresidente della regione, l'onorevole Lolli, che come è stato pubblicato dal messaggero è proprietario di una delle case che si sono danneggiate in concomitanza con i lavori dei sottoservizi e ci chiediamo per quale motivo di fronte a questa situazione il Comune non abbia fatto nulla, il Comune non abbia neppure chiesto ovviamente alla SCARL e alla GSA sulle modalità con cui si svolgerono questi lavori. Si tratta di una situazione di assoluta mancanza di trasparenza che per noi è intollerabile.